nicola gianico l'esperienza nella film junior gp è già iniziata prima le storie in portogallo poi la spagna a breve ci sarà la nuova tappa a barcellona ma facendo due passi indietro come stato questo inizio in un mondo possiamo dire nuovo per te allora all'inizio è stato un po diciamo difficile per l'approccio con la moto nuova che è un po complicata da capire perché si muove tanto non è una derivata di serie e va molto forte però adesso stiamo iniziando a capirla e piano piano stiamo sempre migliorando e il nostro obiettivo è quello di crescere gara dopo gara senza tante aspettative però piano piano arrivare sempre più davanti si parla che i piloti sono quelli che devono avere un po di sana follia per te deve essere quanto è stato complicato salutare una categoria che ti avevano visto protagonista parecchio e tuffarti in un mondo che è stato veramente nuovo allora sicuramente sarà una bella esperienza e una grande opportunità che non non tutti hanno e non tutti hanno nemmeno diciamo il supporto per andare il saldo è grande però piano piano si arriva bisogna sempre stare lì concentrati dalla mattina alla sera quando si è in pista e anche quando si è a casa per gli allenamenti sempre devi dare sempre il cento per cento in tutto a proposito di supporto ce l'hai un tipo di supporto ce l'hai già sulla t-shirt la andrea jannone ha puntato su di te con il suo team ti abbiamo visto in alcuni allenamenti lavorare fianco a fianco con lui come sono stati come sono state quelle giornate allora sono state giornate bellissime perché mi sta aiutando tanto sia a livello tecnico che a livello di messa a punto della moto perché ha tantissima esperienza e i risultati si vedono i risultati si vedono ma pensando ai tuoi inizi speravi di arrivare per il momento fino a dove sei ora sì sì quello sempre non è non abbiamo mai dubbitato a proposito di inizi quando si è piccoli diciamo che la maggior parte dei tuoi coetanei si butta su altri tipi di sport su tutti il calcio perché la moto allora la moto perché prima di tutto è uno sport a noi piace a me piace la velocità è una cosa che mi mi è piaciuta sin da quando ero piccolo poi vedendo le gare di simoncelli per prima mi ha affascinato questo ragazzo che andava diciamo così forte poi essendo un pilota di vasto non non possiamo non ammirare andrea che adesso è anche il mio manager a proposito di supporto c'è chi su di te ha puntato forte stiamo parlando con pietro aquilano della team service pietro perché la decisione di accompagnare nicola in questa esperienza del territorio un ragazzo giovane brillante l'avete visto e convinto ha deciso conosciuto i genitori persone simpatiche persone affabili noi lavoriamo e siamo su questo territorio la tematica sembra la stessa otteniamo e ridiamo a questo territorio ovviamente investendo sui giovani a proposito di giovani sei uno di quelli su cui si può puntare il sei uno dei pezzi forti del territorio abbiamo parlato solo di due tappe la stagione sarà lunga e anche complicata ma dove vuoi arrivare allora non ci io con diciamo il mio team non ci siamo prefissati un un obiettivo preciso quello che ci siamo detti è di crescere gara dopo gara e fare quest'anno di esperienze per poi il prossimo anno giocarcela con i primi ultimissima domanda torniamo a pietro il 3 settembre nicola sarà in pista a misano unica tappa italiana sarà l'occasione per andarlo ad ammirare dal vivo assolutamente sì la team service proprio porta nel proprio nome il concetto di team di squadra e andremo a vedere come nello sport nicola impersonerà questa questo modo di vivere di essere che insomma ci ci accomuna grazie a nicola per quello che fa